ciao gente sono scoppiato un po come quella squadra la che non ce l'ha fatta squadra di calcio ogni riferimento puramente casuale comunque vabbè sono parlando di cose serie perché mi vedete che c'ho la faccia seria sono leggermente sudato riesco anche a farmi delle saune a maggio io perché comunque a portarsi un po in giro delle carreghe su nei monti solo i matti hanno queste idee comunque io sono arrivato ora l'altra volta ero sopra ricco verso cottulo e lì c'è colle itase ok ora sono arrivato qua sopra verso testana colle pozzo oppure alcuni lo chiamano colle pazzo colle pozzo colle pazzo comunque io stavo vedendo che qua ho trovato un sacco di belle cose allora prima di tutto qua ci sono le scarpe che usava cristoforo cristoforo colombo che è nato là dietro no usava cristoforo colombo per quando ha fatto praticamente è andato a genova no è partito appunto dalla val fontana buona sappiamo tutti che è nato la dietro è andato a genova poi ha preso un battello tre battelli le tre caravelle è andato a farsi un giro in india però poi ha sbagliato strada è finito in america e anche per questo che oggi siamo così messi male lassù nei paesi dell'est ogni riferimento è puramente casuale poi dopo le scarpe di cristoforo colombo perché qua noi nel golfo paradiso abbiamo tutto tutto allora la camera d'aria di coppi la camera d'aria di coppi vedete c'è è proprio anche a forma di o di coppi camera d'aria di coppi perché in passato molto in passato il giro d'italia ha fatto una tappa che passava qua praticamente passava sempre dalla val fontana buona ok perché poi salutava i diciamo i figli nipoti pronipoti di cristoforo colombo vabbè genealogia sono un po grammo passava dalla saliva da colle caprile poi saliva giù su sopra di qua per il crinale sopra testana e poi scendeva giù verso verso corticella ma non c'era l'asfalto non c'era neanche la strada loro già i tempi facevano le mountain bike no coppi è una delle prime tappe che hanno fatto questa è la camera d'aria di coppi dunque allora scarpe di cristoforo colombo dunque se hanno venduto una banana attaccata con lo scotch per mezzo milione di dollari queste valgono 4 milioni di euro camera d'aria di coppi vedete che anche la forma vi dice che è un milione di euro tondo tondo poi ci sono c'è lascia dei 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 pelle rossa dei capi dei pelle rossa perché ovviamente quando cristoforo colombo è andato là in in america ha fatto casino bordello come al suo solito ha fatto incazzare gli indiani pelle rossa e poi uno di quelli ha preso il traghetto il battello quelli punto il battelli qua del golfo paradiso partivano da line passato no dall'america comunque una riga di cazzate ragazzi tornavano qua i battelli in italia e l'indiano ha preso il battello e è arrivato qua con questa che si è rotta nel combattimento contro il 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 figlio di cristoforo colombo si sono ammazzati la dietro non vol fontana buona però poi qua si è strascinato l'indiano cercando di riprendere la via del ritorno verso il porto ma ha lasciato piantata la lascia di guerra appunto di guerra lì nel tronco questa quindi lascia di del figlio di 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 quello famoso indiano pelle rossa no com'è che si chiama vabbè poi vado a vedere i documenti perché c'è tutto documentato originali e lascia di quello lì come potete vedere qua c'è ancora il sangue del figlio di cristoforo colombo è ma questa dunque le scarpe valevano 4 milioni di euro lascia lascia facciamo due milioni di euro la metà dunque allora se comprate tutto insieme scarpe di cristoforo colombo ascia del figlio dell'indiano pelle rossa che ha ammazzato il figlio di cristoforo colombo qua in fontana buona che è venuto dall'america incazzato nero incazzato rosso perché poi magari se la prendono che sono razzista incazzato rosso poi la camera d'aria di coppi quando ha fatto quella eccomi che sono tornato ogni tanto la mando anch'io la pubblicità gente un po come i vip comunque dicevamo eravamo rimasti alle scarpe di cristoforo colombo 4 milioni la lascia di guerra del figlio pelle rossa incazzato rosso 2 milioni e la camera d'aria di coppi un milione vi faccio uno scontone allora faccio sarebbero 7 milioni di euro facciamo 6 milioni mi rovino e vi do tutte e tre tutte e tre le cose sono tre reliquie non le trovate da nessuna parte fidatevi e comunque ci sarebbero ancora degli articoli interessanti è tipo questi pantaloni che erano di erano di erano sapete che forse questi pantaloni sono miei forse però se li volete ve li vendo no perché sapete ultimamente io a volte vedo persone gente ragazzi anche più adulti che girano con questo tipo di vestiario no pantaloni lunghi corti totalmente abbastanza aperti ora questi qua sono miei e sono original nel senso sono originali e sono finiti così sono diciamo si sono ridotti così perché lavorando anche un po in giro nei buschi però se li volete dal momento che comunque quel quel tipo di vestiti no che sono nuovi poi li sguarrano e costano ancora più di quelli nuovi se li fanno pagare io ve li vendo a 200 euro prezzo d'amico realmente sono il finger est 1800 1985 anzi forse può essere che una volta le aveva anche indossati coppi non lo so giusto per allora poi ci sarebbe un cacciavite che comunque sia ricorda anche la roma perché giallo rosso giusto perché appunto ieri sera la roma ha vinto la conference league questo caso mai lo regalo a chi compra i pantaloni e le scarpe di cristoforo colombo lascia di guerra del figlio del pelle rossa che ha ammazzato il figlio di cristoforo colombo e la camera d'aria di coppi questo è un regalo perché comunque sia è anche rotto c'è la punta rotta giusto perché sono genovese pigna allora poi dunque non saprei ancora cosa vendere carta igienica gente giusto perché ormai per gli italiani c'è rimasto solo quello ci possiamo pulire il perché ormai ci hanno ci sta mettendo proprio una bella posizione laggiù a roma noi in italia in italia gli italiani frattutto è una bella situation niente gente io sapete che io di solito faccio delle dirette abbastanza lunghe come questa video e poi mangio ovviamente anche oggi devo mangiare sono qua l'ombra c'è un po il sole che va e viene da dietro le nuvole me la godo mi diverto come potete vedere mi diverto alla grande anche da solo io e gli alberi io e neanche gli uccellini perché no ce l'hanno uccellini forse magari fra un po' spunterà qualche cinghiale o qualche serpente comunque niente ragazzi vi saluto se non mi vedete più oggi è il 26 di maggio 2022 ero venuto qua in cima colle pazzo colle pozzo insomma sulle alture di testana a sondare il terreno quindi potrei e sa sto ancora cercando la la tomba di gabribaldi non garibaldi gabribaldi che comunque sia chi mi conosce lo sa gaibi 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 dopo questo video secondo me mi vengono a reclutare in casa con le camicie non la camicia le camicie di forza una per ogni mia personalità multipla tipo com'è che si dice quella quel termine la personalità b b vabbè quando uno c'è le due personalità non è quando uno è matto che sclera poi diventa normale che quello il morbo di tourette mi sembra no che uno tipo ma manda fanculo le persone poi dopo dieci secondi gli dicevo ciao caro come va tutto bene no era la cos'è la b b b b b b b focale b no b focale no sono gli occhiali b come va tutto bene no sono gli occhiali b 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